ciao a tutti oggi voglio parlarvi del iploc spin super bright che è arrivato a casa a settembre il lucchetto iploc super bright è un lucchetto che si attacca facilmente in vita grazie a questa velcro regolabile lo attacchiamo in vita e ce lo portiamo a spasso per la città molto molto comodamente il peso 760 grammi spesso e volentieri mi capita di scendere dalla bici e salire in casa ho ancora il lucchetto attaccato in bici anziché averlo lasciato magari nel box di fianco alla bici il lucchetto è caratterizzato come abbiamo detto da una combinazione a quattro cifre che si regola qui dove vedete si gira la vite nel senso orario e così si riesce a cambiare la combinazione la catena che caratterizza questo lucchetto è una catena certificata enra livello medio ovvero 6 mm la parte della chiusura quando è in fase di trasporto viene chiusa come vedete sempre da velcro è un prodotto come abbiamo detto veramente leggero e comodo assolutamente per un utilizzo commuting o comunque per il bike to work la lunghezza totale della chiusura è di 75 centimetri quindi è sufficiente da assicurare la nostra bicicletta ad un paletto con il metodo telaio e ruota ovvero il metodo più sicuro abbiamo detto i block spin super bright combinazione a quattro cifre regolazione in vita dai 62 ai 126 centimetri 760 grammi prezzo al pubblico 39 euro e 99 che nel caso di acquisto sul sito web di i block direttamente con il mio codice sconto marco 15 potete convertirne in uno sconto del 15 per cento al check out anche per questo second drop i block riders 2022 2023 è tutto adesso aspettiamo il drop di dicembre per vedere cosa ci manderanno dall'inghilterra spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo ciao